Ciao a tutti ragazzi e oggi c'è un nuovo video per la compagnia del cane Oh, ciao cane Ci fai vedere degli animali? Sì, abbiamo un video Ehm, posso vedere l'azione bellissima Abbiamo delle pecore, vedi, che sono? Pecore tibetane? No, sono pecore di Manuela e quelle che sono su TikTok Oh, guarda, c'è anche la pecorella piccola Vedi, l'agnalino Guarda che animali che sono Ora li daremo da mangiare E li si sta grattando con la corna Ora li daremo da mangiare Non li possiamo dare da mangiare perché qua abbiamo un formiglio Vediamo gli altri animali Più vicino Ora li daremo da mangiare? Ora li daremo da mangiare? Qua abbiamo il figlio di Emanuele C'è lui, lui è Emanuele Oh, Emanuele con le corna piccole, vedi che c'ha le corna piccoline Ecco Emanuele con le corna piccole, vedi che c'è il figlio di Emanuele Lama, vedi? Lama Lama, sta a tenere che questo sputa Lama sputa Lama 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 sputa L'acido gastrico, lo sai? Ah Ah, sì Pericolosissimo Sì, sì Quello è acido Consigli che ti potrebbero salvare la vita Sì Non far incazzare lama Ok papi Fammi iscrivere a un corso di karate Guardate E voi pure gli stivaggi Ragazzi Guardate che le tana hanno fatto qua Ragazzi Vedi come è pelosa quella specie di Non lo so Ma faccia Una capra Si è incandata Ragazzi Uno stava pisciando E' peccola Stava facendo la pipì? Sì Vedi quello? E' un occhio in uscia Si è bloccato Ragazzi Si aspetta una Ragazzi il cane sta arrivando Il cane Sta arrivando il cane Ragazzi E' ama E' ama E' ama E' ama Stai arrivando il cane Aiuto Il cane Il cane Il cane Il cane Sì Non ti preoccupare Non fa niente il cane Non fa niente Vai cane Vai di là Ok Va bene Il cinghiale dorme Ragazzi Ciao a tutti ragazzi E' un prossimo video Prossimo video Ciao lama Che dice? E' peccola E' lama E' lama Questa è lama Sì Sì E' peccola 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 Ok Peccola E' un prossimo video E' un prossimo video